Il sindaco è ufficiale? È ufficiale, sì, e questo è un momento denso di connotazione affettiva e emotiva. Un grande ringraziamento alla gestione commissariale, al prefetto Cardellicchio e ai commissari tutti. Un ringraziamento alla coalizione del campo progressista e un saluto affettuoso di buon lavoro anche all'opposizione di questo Consiglio Comunale, per la quale mi batterò sempre con equivicinanza rispetto ai bisogni di tutti i cittadini. È un grande momento per me, perché non è che ci si nasce col ruolo apicale di una città, ma vi assicuro che da ora in poi, anzi già da venerdì lo sto facendo, avrò modo di essere sul pezzo, essere pronta, energica e determinata per il bene di questa città. Sindaco, una donna cosa può portare in più a questo buon lavoro? Una sensibilità multitasking, che però è sempre complementare alla bellissima sensibilità del genere maschile. Grazie mille, grazie.